Buongiorno a tutti, oggi sono immerso nella magnifica cornice dell'hotel Villa Margherita di Rovigo e vi aspetto proprio qui il sabato 27 gennaio dalle 16 alle 18 per il mio classico incontro esperienziale sull'autostima e il benessere relazionale. Nell'incontro ci sarà una parte teorica e una parte di tipo tecnico esperienziale dove potremo scoprire assieme le convinzioni negative, le idee che fanno male di ciascuno di voi e poi creare partendo da voi stessi delle idee nuove e positive per stare meglio e raggiungere i propri obiettivi. Faremo questo tramite esercizi carta e penna e tramite tecniche di tipo esperienziale di gruppo e tecniche di tipo ipnotico. Ci vediamo allora a fine gennaio, il 27 gennaio. Concludo ricordando la frase che chi segue i miei incontri sa sempre che diciamo la fine, ovvero che il gruppo terapeutico ha sempre ragione. A presto, ciao a tutti!